Spetterà al genetista Ugo Ricci estrarre il DNA da comparare poi con quello dei sospettati. La procura di Arezzo ha infatti affidato all'esperto l'esame delle tracce biologiche lasciate dall'assassino di Maria Venasio de Sousa nell'appartamento di Via di Andrea della Robbia, dove una settimana fa la donna, una sessantenne brasiliana, era stata trovata senza vita sul letto, uccisa con tre colpi alla testa e con una corda ancora stretta al collo. Gli esami sul materiale biologico rinvenuto dalla polizia scientifica nel corso dei sopralluoghi, tracce di sangue, liquido seminale, peli, capelli, frammenti di pelle e saliva saranno eseguiti all'ospedale di Careggi e sempre nei laboratori fiorentini potrebbero essere analizzati anche soprammobili ed altri oggetti trovati all'interno dell'appartamento e compatibili con i colpi alla testa della donna che le avevano provocato ferite gravissime. La sessantenne, secondo l'autopsia, sarebbe morta tra la mezzanotte e le tre del mattino. Una testimone, già sentita dagli inquirenti, avrebbe però indicato un orario preciso, le 4.50, quando aveva sentito gridare aiuto in portoghese. Gli inquirenti, intanto, stanno continuando a sentire le persone vicine alla donna, il marito, i familiari, gli amici, ma anche i clienti e le persone legate al mondo della prostituzione. La donna, infatti, riceveva a suo appuntamento uomini nell'appartamento dove è stata ritrovata assassinata. Resta comunque strettissimo il riservo da parte degli investigatori che avrebbero già stilato una rosa di nomi dai contatti telefonici della donna in quattro diversi cellulari, tutti sotto sequestro. I uomini della squadra mobile di Arezzo, guidata da Francesco Morselli, stanno infine verificando gli alibi dei nomi ricavati dai tabulati. Il corpo della donna non è stato ancora restituito alla famiglia, si trova in obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.